Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, si parte anche oggi, 7 e 10, giovedì 19 settembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, questa è Crystal Radio, la radio che vi dà la sveglia, questa è Good Morning Milano, il programma che vi tira giù dal letto. E invece so che sicuramente molti di voi già sono in giro, ci stanno già ascoltando chissà da dove, anzi ditecelo no, 3317853555, potete collaborare alla buona riuscita di questo programma facendo anche voi, sedendovi comunque al tavolo qui con me, dietro ai microfoni con i vostri whatsapp, tranquillamente, audio, video, foto, messaggi, quello che volete, condividete con noi, noi andremo avanti fino alle 9 e voi raccontateci un po' appunto che cosa state facendo. Questa mattina quale sarà il menu della giornata e dove andremo per questa giornata appunto di giovedì 19 settembre. Come sempre tanti ospiti, oggi è giovedì, quindi parleremo anche di teatro, torno all'appuntamento con l'abitudine del teatro con Tamara Malleo nella seconda parte di trasmissione, tantissime le notizie che arrivano dai giornali. In apertura ovviamente non possiamo però, soprattutto anche per motivi anagrafici del conduttore, ricordare cosa è successo ieri, la scomparsa di Totò Schillaci che appunto ci ha lasciato a 59 anni il bomber, così l'hanno definito tutti il bomber, delle notti magiche, insomma Italia 90, chi non si ricorda i suoi gol, chi non si ricorda le sue gesta e quindi ovviamente volevo iniziare questa puntata ricordando Totò Schillaci. Edoardo Bernato e Giannanini, quella che voi cantate sempre notti magiche che in realtà si intitola un'estate italiana, tra parentesi notti magiche, è vero, è un doveroso ricordo per Totò Schillaci, è un doveroso ricordo anche di quella 1990, i mondiali del 90, è stato il primo mondiale in realtà che io ho distribuito, avevo dieci anni, quindi insomma quelli prima, quello del 86 me lo ricordo poco ad esempio, no? Con il 90 me lo ricordo molto bene anche perché giocavo in casa mia, quindi era anche abbastanza facile da seguire e anzi qui un ricordo piccolo personale, voglio salutare ovunque sia il mio caro nonno che mi portò a vedere una partita, ovviamente nonno, famiglia Ranfi, bracino corto, quindi cercò la partita più assurda in assoluto, io vi di Germania, Emirati Arabi Uniti, va bene? Però visto che costavano pochi biglietti per la partita, mi presi i biglietti che costavano di più in realtà, pensate bene in tribuna rossa e mondiali, in realtà no, chissà quanto spese, quante mille lire spese per quel biglietto, non mi ricordo minimamente come finì la partita, non lo so perché era la prima volta che mettevo piede a San Siro più o meno, col nuovo San Siro, quindi appena costruito il terzo anello e tutto, e insomma, grazie al mio nonno che mi portò a vedere quella partita, poi la mia passione per il calcio credo finì il giorno dopo, ma fa niente, va bene, era bello, i mondiali sono comunque belli da vedere, qui ci sono un paio di ganci a notizie che possiamo darvi e potrei far scegliere a voi, tipo i libri game, sapete quei libri che c'erano una volta? secondo me, ecco, Beatrice in questo momento classe 2003 mi guarda con la faccia a punto di domanda, non hai idea di cosa sia un libri game, vero Beatrice? Bene, allora i libri game erano dei libri dove tu potevi scegliere come andare avanti nella storia perché a un certo punto il personaggio diceva e mi trovai davanti a una porta e sotto c'era scritto vai a destra pagina 22, vai a sinistra pagina 46 e tu sceglievi la strada da prendere e c'erano anche altre scelte, qui uguale posso chiedere a voi, quindi ditemi da che parte volete che vado, allora, estate italiana, e posso darvi i dati sull'estate bollente di agosto a Milano, oppure stadio San Siro, ok possiamo scegliere, 3, 2, 1, grazie per la scelta, allora avete scelto estate, benissimo, sono arrivati 86 milioni di messaggi che hanno detto, il 51% ha detto che è estate Allora, estate bollente ad agosto a Milano, il record di caldo dal 2003 con 30 notti tropicali, il report dell'osservatorio Metoduomo, sto leggendo da Repubblica Milano, dice che dal 2000 a oggi solo altre 4 volte sono state raggiunte temperature più alte di quelle registrate quest'anno con, pensate, 37 gradi di massima il 12 di agosto L'estate del 2024 appunto è stata quella, la quinta estate milanese più calda all'inizio di questo millennio, negli ultimi anni, dal 2000 in poi, solo quella del 2003 è stata più calda di questa qui Ma il dato significante è su agosto, perché l'agosto milanese del 2024, il più caldo di sempre dopo quella del 2023, ha registrato 30, ripeto, 30, nonostante l'ARB lo ripeto ancora, 30 notti tropicali su 31 Vuol dire che tutte le notti sono state veramente con temperature altissime, con, pensate, 37 gradi e mezzo di massima e quando faceva fresco c'erano 27,3 gradi di minima Ok, e un indice umidex, che avete capito anche voi, cosa farà l'indice umidex? L'umidità, ovviamente, che misura la temperatura percepita, quindi tenendo conto l'umidità La temperatura percepita è stata quella di 43,4 gradi Welcome to Favelas, diceva qualche profilo Instagram, la temperature sono praticamente quelle tropicali di un Brasileo giù di lì Comunque, l'agosto 2024 è stato il più caldo di sempre dopo quella del 2003 Consoliamoci che nel 2003 c'ero, mi ricordo, e faceva davvero, davvero caldo Non che quest'anno abbia fatto meno caldo, però E questa era Diana Ross con Upside Down Allora, non voglio, insomma, fare dispiacere all'alto 49% degli 84 milioni di persone che hanno votato poco fa al nostro sondaggio E quindi adesso invece parliamo di stadio Siete contenti? Siete felici? Sentivate la mancanza? Allora, Repubblica Milano Repubblica Milano mi esce ieri mattina No, sì, no, ieri, sì, ieri, ieri notte Con un nuovo articolo Mi piace che mai pubblicano a qualsiasi ora A luna di notte, alle 5 del mattino Mai pubblicano a qualsiasi ora per tenervi i visiti Vabbè, comunque Caso San Siro Demolire il secondo anello per ricalibrare lo stadio Per la sovrintendenza Adesso si può fare La sovrintendente Carpani Dopo l'incontro con Sala, Inter e Milan Dice che l'intervento deve essere di grande qualità Soprattutto per chi ci abita Mi piace questo che ci abita Sembra che ci abitiamo dentro allo stadio Mantenere la memoria e migliorare la zona Cosa vuol dire? Che hanno fatto un incontro tra Milan, Inter, Sindaco E la sovrintendente Emanuela Carpani E ne è uscito che cosa? Un po' di consigli per gli acquisti Nel senso che E anche qui c'è da capire Vabbè, io capisco che insomma La paura di rimanere con lo stadio lì Con il cerino in mano, come si dice, è tanta Però non vedo una grande capacità di gioco al poker Non so come dire Cioè a poker la nostra giunta avrebbe perso alla prima mano Io non mi ci metto neanche a giocare Quindi però nel senso avrebbe Perché insomma non vi dico di bluffare Ma almeno tenere un po' la retta Tenere dritti la schiena Cioè boom, dritti avanti E cercare di fare anche Magari a voce grossa a volte Dicendo insomma Le regole sono queste No, invece cercano sempre di In più adesso c'è il Grande punto di domanda Della sovrintendenza Che potrebbe appunto Scattare automaticamente Il vincolo Potrebbe far scattare automaticamente Il vincolo sul secondo anello Dal 2025 in avanti Da fine del 2025 in avanti Perché scattano gli anni Per cui scatta automaticamente il vincolo Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto Abbiamo fatto Abbiamo incontrato le società No, il Milano ha incontrato le società E gli ha detto Oh, se ve lo comprate Nel 2025 Riuscite a scongiurare questo vincolo Quindi consigli per gli acquisti In questo caso, no? Anche se in questi consigli Ci sono comunque dei paletti O meglio Delle tematiche Che vanno toccate Che le squadre Devono tenere ben presenti Se vogliono Acquistare E poi sistemare O barra demolire In una certa parte Lo stadio Che sono appunto Quelle che vi ho detto prima Cioè la sovrintendenza dice Però guardate che L'intervento deve essere Di grande qualità Soprattutto Di grande qualità Per chi abita nel quartiere Quindi Perché l'idea qual è? Che in realtà Lo stadio venga comprato Dalle società Ne demoliscono una parte Lo riconvertono Ad altro utilizzo Per poi fargli costruire Un altro stadio di fianco Cioè siamo tornati ancora Alla famosa idea Praticamente di 5 anni fa Ecco I vincoli ci sono Quindi adesso Sta tornando di nuovo L'idea del dire Ok lo stadio è lì Però non è che lo proteggiù Per farci il centro commerciale Se mai Io continuo poi a dirlo Se mai Se è proprio È una cosa che io Non mi piace minimamente Ma se mai Proprio fatecelo lì dentro Il centro commerciale C'è già la struttura Cioè fatela un po' Rimodernizzatela E fatela lì dentro Quello che un po' Mi spiace È che insomma Ci sia un po' Questa voglia O meglio Questo sentimento Da parte di chiunque Del dire Vabbè allora noi Del comune partiamo in difetto E quindi Noi chiediamo 100 Ma sappiamo già Che insomma Se ci arriva anche solo 20 Di quello che chiediamo Va bene Ecco Insomma magari a volte Proprio Posso dirlo Calarsi le braghe così Anche meno Cioè nel senso Capisco tutto quello che è Ma magari soprattutto Sui giornali Usciamo con un po' Più di Sicumera Che poi però Fa finire male Poi di solito Chi ha la sicumera Effettivamente Quindi vabbè Lasciamo fare agli esperti E ai professionisti Sperem Ciao Lucio Battisti Dieci ragazze E so che insomma Ve la siete cantata tutti Ho la conferma anche Perché ci arriva una Whatsapp Di Adriana Che dice Buongiorno cantando Ebbene sì Quindi so che in macchina Ve la sarete sicuramente Cantata Questo è Insomma Il nostro obiettivo Riuscire a farvi O ballare O cantare Io ho sempre questo grande sogno Di vedervi in strada Ballare le nostre canzoni Un po' Tipo Vogue Tipo Pose Settimana della moda Poi insomma Vorrei vedervi veramente Sculettare così In giro per la città Ballando a ritmo Di Cristal Radio Va bene È il grande mio sogno C'è chi invece ci manda Degli audio Diciamo Commentando le notizie Che abbiamo dato Abbiamo parlato Di come l'estate 2024 Sia stata l'estate più calda Del millennio Dopo altre tre Ma più calda Degli ultimi vent'anni Dopo Del 2003 Sì del 2003 Scusate Giustamente Nello ci dice questo Allora Buongiorno Fabio Buongiorno agli ascoltatori Di Cristal Radio Ogni estate Si dice sempre Che è l'estate più calda Come il figlio Si dice sempre Di bere tanta acqua Di mangiare tanta frutta Di non far uscire i bambini Nelle ore più calde Gli anziani E tantomeno gli anziani Infatti Ho i figli Sono sempre cresciuti al sole Nelle ore più calde I nonni Logicamente Li lascia Abbandonati Allo giardinetto Ringraziamo il TG Che c'è sempre stato Vicino per queste cose Ogni anno Sì 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 E che fanno mezza redazione Sul caldo che c'è Dicendo che ogni anno L'estate più calda Sì Come fanno a dirlo? Mettono l'altra metà Di redazione al parco Credo E la fanno squagliare Vedono Ogni anno mettono Dieci redattori al parco Quanti ne rimarranno vivi E in casa quanti Ne rimangono in piedi Capiscono se è L'estate più calda o no Effettivamente allora Nel senso i dati dicono Certe cose Dopodiché i dati Abbiamo scoperto questa cosa Che i dati sono però poi Da interpretare Nel senso che non è che Un numero dice tutto Sono da interpretare E si interpretano sempre Con il fatto che Dall'altra parte Sicuramente il cambiamento Climatico è palese Davanti agli occhi di tutti Non so quanto serva Appunto continuare a dirci Che è l'estate più calda Che dobbiamo bere tanta acqua Che non possiamo abbandonare Nonno e nonna Al parchetto Che poi vorrei sapere Chi è che prende due anziani Li porta E li butta in un parchetto Alle tre All'una del pomeriggio Del 12 agosto Non so Cioè Forse loro in realtà Perché sono rotti Le balli di stare a casa A sentire i nipoti Che non puoi le scatole Basta Vado Vado al Sempione All'una del pomeriggio Del 12 agosto Vediamo Se poi torno a casa Chi se ne frega Ma può essere Effettivamente Comunque Queste sono appunto Le notizie Che troviamo sui giornali oggi Anche se Anche se Io ho una notizia Dalla RSI Anzi Adesso l'ho persa Adesso torno indietro La trovo Eccola qua Nel senso che ormai sapete Che io ho questa Addicted Addizione Si può dire No non si trovo c'è l'addizione Non si trovo c'è l'addizione Comunque C'è questa Addicted Verso La RSI Che è la rete svizzera italiana E che oggi Apre sul suo sito Con una notizia Fondamentale Per la vita di tutti noi Che in realtà Posso dire Mi viene anche da sorridere A me Sempre più rimozione Di tatuaggi Ebbene sì Moltissime persone Hanno disegni incisi Sulla pelle E così cresce il mercato Di chi propone Di cancellarli Alla base All'incremento Di queste richieste Ci sono anche Soprattutto I rimpianti Di decisioni impulsive Con conseguenze Però a lungo termine Quindi Il giornalista Il bravissimo giornalista Francese Perché è una notizia Presa dalla Pesante Dalla rete svizzera Francese Dice Un tatuaggio Non è per forza Per tutta la vita Se uno pensava Invece no Perché ormai La possibilità Di cancellarlo Esiste E soprattutto Sono sempre di più Quelli che Vogliono Farseli togliere Quindi il mercato Rimozione di tatuaggi È stato stimato A 400 milioni Di dollari Nel 2023 E invece Quest'anno Ancora È in salita Perché continuano A fare Richieste Su richieste Di appunto Togliere i tatuaggi Beh insomma Chissà quanto ci vuole A togliere un tatuaggio Quanto ci vorrà Non lo so Sicuramente Più di due minuti Tanti applausi Tanti applausi Nella canzone di Calcutta Due minuti No non ve la sto raccontare La storia degli applausi Perché ci sono in questa canzone Che l'ho già raccontata mille volte Eh però vabbè Se mi guardi con la faccia curiosa Adesso devo raccontarla per forza Devo È nuova Mi spiace Cari ascoltatori Mi spiace Chi ve l'ha già sentita Anzi scriveteci Se ve la ricordate Vediamo Se la ricordate bene Allora Io ho sempre pensato Fosse una citazione Della canzone di Gregori Pablo è vivo Così E invece non c'entra assolutamente niente Non c'entra assolutamente niente È invece che La canzone di Calcutta Doveva finire con dei cori Ok Che dicevano Non so Due minuti Due minuti Non so cosa dicevano Non lo so Questo è un particolare Chiamerò Calcutta Io chiederò Comunque dovevano finire E quindi registrano questi cori Alla fine della registrazione Di questi cori È venuto così bene Che è partito un applauso spontaneo Di tutti quelli Che erano lì a registrare i cori Quando poi Calcutta Va al mix finale Ascolta la canzone Non gli piacciono i cori Dice No a me i cori non mi piacciono Infatti non ci sono i cori alla fine Non ci sono i cori Ma mi piacciono gli applausi Quindi ha tenuto gli applausi finali Così Come Come roba cute Va bene Ecco Sto parlando Mamma mia ragazzi Sembra quei boomer Che fanno una pubblicità Ricordate la pubblicità Negli anni 90 Parlando di boomer A un certo punto La Fiat fa Una versione varia La Uno C'era mille versioni C'era un certo punto La Uno Jeans Fa la Uno Rap Fa la Uno Rap Che semplicemente Era una Uno normale Con scritto Rap Sul lato Che sembrava scritto Con la bomboletta Nel senso Ma piccolino Così Perché Nel esempio avevo la Panda Dance Panda uguale a tutte le altre Ma anche l'autoradio c'era su Quindi Dance cosa Non lo so Ma c'era su un fianco Scritto Dance Semplicemente E forse era blu metallizzata Che invece non c'era Negli altre cose Comunque La Uno Rap Aveva una pubblicità Di una boomerata Già all'epoca Che c'era una canzone C'erano dei ragazzi giovani Dei giovani ragazzi Che avevano appena Pusato la patente Che cantavano un rap Con dicevano Uno Rap per me Uno Rap per te Uno Rap Così Cioè una roba Di una trisciata unica Ecco E quindi sembra un po' Quando dico queste cose Insomma anch'io Effettivamente Comunque Notizie che arrivano ai giornali O meglio Notizie a cui potete anche partecipare Perché Cos'è successo Leggiamo da Repubblica Milano La Mini Italia Nascosta nel parco Trotter Dove i bambini imparavano la geografia Candidata Tra i luoghi del cuore del FAI E voi li potete votare Questi luoghi Quindi Iniziano le votazioni E uno di questi luoghi È appunto Questa Mini Italia È una sagoma Dello stivale italico Scolpita in pietra Di 10 metri per 15 Io l'ho vista È proprio il parco Trotter In realtà Se ce l'ha dato si vede Cioè se la cercate Anzi andateci a vedere Che è veramente bella Al momento Ricoperta un po' di muschio Erba E altre mini tavarie La Casa del Sole Che è la scuola Che c'è all'interno Del parco Trotter Vuole restituirla Alla città E quindi La candida Al luoghi del cuore del FAI Non è la prima volta Che la Casa del Sole Candida dei luoghi Qualche anno fa Aveva candidato La stanza delle scoperte Che è arrivata Aveva stata Sessantatresima Nella gradatoria Quindi anche Non tra i primi Ma che comunque Si è ciapata 30.000 euro Dal FAI Per un intervento E adesso Questa stanza La scoperta Che è una stanza Che viene utilizzata Appunto per la didattica È stata aperta Non solo per la scuola Ma anche per la cittadinanza Ed è stata appunto Rimessa a posto Rimessa a nuovo Speriamo che si possa fare Lo stesso anche Per la mini Italia Del parco Trotter Parco Trotter Via Padova Da quelle zone lì Capito Tra via Padova E via Le Monza Lì in mezzo C'è questo bellissimo parco Appunto l'Ex Trotter Dove c'è all'interno Una scuola Che è sempre stata a scuola Fin dall'inizio del secolo Che adesso appunto Candida Questa bellissima costruzione Che è la mini Italia Come luogo Del cuore Del Fai Quindi Se andate sul sito del Fai Si può dare il proprio voto A questi luoghi del cuore In bocca al lupo Allora la mini Italia Del parco Trotter E non è lì fruttato Non è lì fruttato I'm like a bird Ed è subito un po' Compilation verde Del Festival Bar Cioè quel mood lì Ed è subito primavera Non marinarei Primavera No però insomma un po' così Tra parentesi C'ha scritto Adriana Che dice Ma pensavo partisse un'altra canzone Effettivamente Sentite qua È molto simile l'inizio In questi invece sono gli NSYNC Con Bye 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 Effettivamente L'inizio è molto simile Grazie Adriana Per averci fatto Sentire questa Somiglianza L'intro L'inizio è molto simile Appunto all'intro Di Bye Bye Degli NSYNC Vabbè quindi Bye Bye Grazie Anzi Adriana Ancora per questo doppio lancio Bye Bye Sono le parole Che hanno dovuto dire Alcuni Poveri Cristi Diciamocelo Alla propria caldaia Se so che detta così Non si capisce Vi vado Vado a spiegare Vado a spiegarvi Grazie a Corriere della Sera Milano Che scrive Milano L'idraulico Truffatore seriale Smonta la caldaia E chiede un riscatto Per ristrutturirla Finalmente denunciato Aggiungo io Così Ebbene sì Il 41enne Residente a Brogherio Con un annuncio online Prometteva Riparazioni 24 ore su 24 Ma in realtà Spesso 20 ore Poi si è scoperto Incassava i soldi Non faceva nulla Per il caso Quindi smontava Un po' di pezzi Invece Invece Partiva da avere Quei soldi In più Nell'ultimo caso Cos'è successo Ha smontato Un pezzo di impianto Se l'ha portato via E ha chiesto 585 euro Di riscatto Per far Ai poveri Signori Che avevano Problema alla caldaia Per ridare indietro I pezzi Per poter poi Far aggiustare Da qualcun altro L'impianto Quindi Questa è L'attenzione Questa è la truffa Della giornata Mi piace Questo Corriere della Sera Che apre l'articolo Con Prende in ostaggio La caldaia di casa E chiede un riscatto Effettivamente Questo che ha fatto Ha fatto appunto Proco successo Ovviamente In un momento in cui La gente ha detto No ma come è possibile Quindi minacce Minacce ai proprietari Di casa Minacce agli inquilini Insomma È una questione Che appunto Adesso poi È stato fatto denunciato Sono dovuto intervenire Le forze dell'ordine E si è scoperto Poi che la stessa persona Aveva già altre denunce Altre querele In altre zone della Lombardia Perché insomma Questo giochetto Lo sta facendo Da un po' di anni Quindi Attenzione Quando si chiama Qualcuno Con questo non vuol dire Che tutti gli annunci online Anzi Per fortuna Ci sono anche gli annunci online E tutto Date un'occhiata Magari Ecco Senza Allora Senza neanche far quella roba Che io veramente non sopporto Quando Cari miei ascoltatori So che lo fate Quindi va bene Ogni tanto Devo tirarvi le orecchie La giacchettina E darvi quattro schiaffi Per farvi riprendere un attimo Sì È metodo violento Bisogna fare così Perché ogni tanto Su Facebook Fate delle cose Che non hanno senso Allora Che senso ha Nel gruppo Sei del quartiere Tal dei tali Se Scrivere Mi date Contatto di un Meccanico E fin lì va bene Bravo Onesto E che sia capace Ma che sai Ti do quello Di quello che non è capace Ma guarda Peccato Peccato Avevo un numero Di un meccanico Incapace Disonesto E che gli puzzano le ascelle Cioè no Non è serio Ovvio che sentino quello Oppure quelli che sotto Dicono no Quella non mi piace Perché L'estetista Quale estetista Mi consigliate Guarda c'è Maria Che va No Maria non è capace Ho capito Non è che puoi scrivere così Cioè adesso Scrivi un messaggio privato Non che su Facebook Maria non è capace Adesso Ma viene tutto Capito No perché vorrei Nel numero Di un Tappeziere Che sia bravo Peccato Avevo quello Che ti metteva Tappezzeria Tutta storta E te la metteva Anche sul pavimento Mi spiace Se poi cercherai Una volta Un tappezzeria Che non è capace Quello il numero Ce l'ho Ma ragazzi Pensate un attimo Quando scrivete Rileggete Come diceva La maestra Elementaria Ok Non tanto per Gli errori di fotografia Quanto magari Per gli errori di concetto Mi verrebbe da dire Cioè Però i numeri Di gente incapace Ne ho tanta Se volete Liza Minelli New York New York Non c'è canzone migliore Per entrare In quel di Broadway Oppure In quel Dei teatri Milanesi Grazie a Tamara Malleo Buongiorno Tamara Buongiorno Buongiorno agli ascoltatori Gli ascoltatrici Di Good Morning Milano E allora Da New York A New York A Milano Milano Sì Perché questa è una settimana Diciamo Non è ancora Appunto Abbiamo già raccontato Che le stagioni Inizieranno a metà ottobre Nei teatri italiani Ma Milano è sempre Molto Cioè C'è grande fermento Perché Iniziamo subito così Diamo subito Delle informazioni Sentiamo dove possiamo andare Vai Questa settimana C'è la settima edizione Del Festival Internazionale Tendenza Clown Al Teatro Franco Parenti Del Circuito Claps Il Circuito Claps Si occupa Di far conoscere In Italia Appunto Il mondo circense Che è un mondo Molto diverso Da quello che noi Solitamente conosciamo Ma in realtà In questi anni Abbiamo capito Che il mondo circense È un mondo Teatrale Fatto di Una narrazione Che Affonda Nelle radici Del mondo circense E Appunto Circuito Claps Si impegna A portare In Italia Degli artisti Internazionali Di grandissima fama Proprio per farci conoscere Tutte le declinazioni Del mondo circense Il festival Durerà fino a sabato 21 Ci sono artisti e artiste Appunto Della scena internazionale Della canoneria Da Peter Schaub A Leandre A Gardiatter Trovate tutte le informazioni Sul sito di Circuito Claps www.claps.lombardia.it Quindi trovate tutte le informazioni E tutte le modalità Per poter partecipare Al festival Ci sono veramente Tantissime attività Anche per i bambini E quindi C'è la possibilità Di entrare Nel mondo circense Però veramente Profondamente Io ho visto Negli anni precedenti Molti spettacoli Ci sono appunto Spettacoli addirittura Che toccano il tema Della morte Per esempio Attraverso appunto La tradizione circense E devo dire Che sono spettacoli Che ci portano Veramente In un altro linguaggio E che ci permettono Di scoprire Nuove storie Attraverso Un linguaggio Che A cui noi siamo legati Tradizionalmente Diciamo così Con Delle immagini Ma che invece È molto più ampio È molto più complesso Il mondo circense Quindi questo festival Ce lo fa scoprire Poi Al parenti Questo dicevi giusto Al franco parenti Perfetto Siamo in Porta Romana Porta Romana Porta Romana Allora invece poi Vi voglio segnalare Uno spettacolo Di Livia Grossi Livia Grossi Una giornalista Il Corriere della Sera Che si occupa Della presentazione Dei vari spettacoli O eventi teatrali A Milano Quindi vi consiglio Di seguirla È una Diciamo una penna Molto Attenta E molto Approfondita Ma Quest'estate Io addirittura Sono andata a vedere Un festival Che lei fa A Framura Nelle Cinque Terre Un festival Molto bello E lei Si occupa però Protagonista Di alcuni Diciamo così Spettacoli Che però sono Delle Interviste Spettacolo E in questo caso Il 23 settembre In via Fabio Massimo In via Fabio Massimo 19 Emigrazione E migrazione al contrario In sala Cascina Casottello Il giornale Parlato Informazione in scena Appunto Lei ha questo format Ha parlato Del Burkina Faso E in questo caso Invece parla Del Senegal Giornalismo Fotografia video E musica dal vivo Il testo La voce Di Lidia Grossi Con le foto E video Di Emiliano Boga Musica in scena Di Andrea Labanca Quindi lei Si fa accompagnare Da musicista E racconta Le esperienze Sia di chi Dal Senegal È arrivato in Italia Sia chi In Italia Si trova A relazionarsi Con il mondo Del Senegal Quindi In qualche modo Cerca di ribaltare Anche il punto di vista Di darci uno sguardo Che non sia Soltanto unilaterale Ma Bionivoco Quindi In qualche modo Cerca un dialogo Attraverso la narrazione Ed è appunto Uno spettacolo Che si basa Su una Attenta analisi Giornalistica Che però Cerca di andare Al di là Dei luoghi comuni Al di là Di quello che già Conosciamo Attraverso Le narrazioni Che ci arrivano E proprio per andare Oltre Quello che vediamo Lei ha proprio Questa Questa missione A livello teatrale Di andare Lei È una giornalista Quindi Sa come raccogliere i dati Sa come entrare Dentro l'informazione Ma c'è anche il passaggio successivo Cioè come questa informazione Possa arrivare attraverso Una narrazione Al pubblico E quindi poi da questo Iniziare un nuovo viaggio E quindi Secondo me È un'occasione Interessante Per poter entrare Dentro questo Viaggio Di Via Grossi Italia Senegale Emigrazione al contrario E voluto dal teatro E voluto dal teatro Menotti Che appunto Fa questi spettacoli In questa fascia Di settembre Pre Inizio stagione Prestagionale Sì Diciamo così Prestagionale La pre-season Come dicono gli americani La pre-season E appunto Si svolge In Via Fabio Massimo 19 Trovate tutte le informazioni Sul sito del teatro Menotti E la zona È zona corretta Metropolitana Gialla Perfetto Poi L'altro appuntamento Dove ci porti? Allora No In questo caso Vi consiglio Guardare La stagione Del teatro Oscar Il teatro Oscar Si trova In Via Lattanzio Quindi zona Lodi Diciamo così Piazzale Lodi Da quella parte là Quindi Metropolitana Gialla Ed è Una Sono tanti Stavo pensando Sono tanti i teatri Da quella parte lì Però Oggi Tret Tutti da quella zona lì Praticamente Però Ce ne sono veramente tanti Da quella parte lì Il teatro Oscar È molto interessante Infatti Molto interessante Hanno Diciamo così Si è stata presentata La stagione Con i tre direttori Artistici Che sono Giacomo Poretti Luca Doninelli E Gabriele Allevi Che sono tre Personalità Che arrivano Da tre mondi Molto diversi Che sono quelli Della narrazione Il mondo del museo E Chiaramente Giacomo Poretti Lo conosciamo tutti Dal mondo Artistico E si sono messi insieme Qualche anno fa Per dirigere Il teatro Oscar E la loro In qualche modo Passami il termine Missione È quella Di mettere al centro L'umano Cioè Tutte le loro storie Sono storie Che ruotano Intorno Alla narrazione Dell'umano Che può avere Appunto Mille sfaccettature Che può essere Molto doloroso Ma può essere Anche molto divertente E cercano storie Che possano Scandagliare L'animo umano Però Mettendo sempre Diciamo così Dando attenzione Anche All'unicità Della storia Di ogni essere umano Perché Quell'unicità Ci porta Ad essere Una moltitudine All'interno Di un'unicità Quindi Tante voci Tante storie Per poi Arrivare Ad una Grande Che è poi Il tema Della stagione Che si aprirà Tra poco Il vizio Della speranza Tutte queste storie Alimentano Quella speranza Che in qualche modo È un po' Fievolita Che invece Il teatro Attraverso le sue storie Può In qualche modo Alimentare E portarci Lo sguardo Al di là Di quello Che in qualche modo Vediamo E che a volte Può sparaggiarci Vi dico subito Che la stagione Parte Il primo Il 2 Il 3 ottobre Con Un evento Che Secondo i rettori artisti Potrebbe diventare Un evento Che si ripete Quindi Proprio Un punto di partenza Per le loro stagioni Prendersi a cuore Una serie di comici E comiche Sono state chiamate Per queste tre serate Trovate tutte le informazioni Sul sito Del teatro Oscar V.Oscar Desidera Punto it E trovate Tutte le informazioni Per appunto Poter accedere A queste tre serate Che sono legate anche Al centro Monzino Perché Che appunto Il cuore È al centro Il cuore pulsante È al centro Di queste narrazioni E questi comici E queste comiche Devono parlare Del tema Prendersi cura di sé E prendersi cura di sé Significa anche Prendersi cura Degli altri Di ciò che ci circonda E scopriremo In queste tre serate Il primo Il due E il tre Ottobre Quali saranno I modi Per potersi Prendere cura Di sé E quindi anche Degli altri Attraverso Tantissimi nomi Che troverete Appunto In cartellone E che A cui potete Accedere La serata Appunto Attraverso anche Questo connubio Con il centro Monzino Poi la stagione È veramente Ricchissima Io vi consiglio Di guardarla Perché ci sono Tantissimi nomi Importanti A partire dal 7 ottobre Con Giulia Lazzarini Che è imperdibile Perché è un'attrice Con una storia Incredibile E poi ci sono Tantissimi nomi Ma tantissime storie C'è Melania Giglio Che porta Mi Winehouse C'è la compagnia Capotrave Con le Volpi C'è Giacomo Poretti Che porta Alcuni suoi lavori Uno in particolare Sul Sul tema del lavoro E quindi Un'attenzione Una cura Nei confronti Di un tema Molto delicato In questo momento Davvero Ce n'è Per ogni gusto E secondo me Il teatro Oscar Va tenuto in grande Considerazione Per poter Accedere Al mondo Del teatro E farlo diventare Un'abitudine Come sempre Come ci auspichiamo Ogni volta Il giovedì Qui con te Tamara Quindi appunto Ricordiamo Il teatro Oscar Tutta la stagione Date un'occhiata Alla stagione Insomma Questo è il consiglio Di Tamara Perché sicuramente Troverete qualcosa Che può andare bene Per le vostre corde E magari Ma forse scoprire anche qualcosa Che vi potrebbe interessare Vi potrebbe incuriosire I direttori artistici Si sono molto impegnati Per una stagione Che potesse Veramente Toccare Corde molto diverse Narrazioni molto diverse Perché Perché l'umanità È molteplice È varia Quindi bisogna scoprirla L'umanità è varia E speriamo Non ha variata Come diceva qualcuno E invece Sicuramente È vario È sempre interessante Gli interventi Di Tamara Che fa qui appunto Con noi A Crystal Radio Ma che se volete Approfondire e seguire Potete trovare Dove Tamara? Teatro Mania Il venerdì Alle 16.30 Su Milano Canale 191 Del Digitale O il lunedì Alle 23.30 Su Antennateca Alle 11 Noi non c'eravamo mai Sì d'accordo Sul scaletta musicale E tutto Tu prima parlavi Del prendersi cura Di se stessi Giusto? Sì Ecco E allora pensa Era già qui In scaletta musicale Grazie a Beatrice E all'ufficio programmazione Franco Battiato Con la cura Grazie mille Tamara A presto Ciao Ciao E andiamo con la musica Franco Battiato La cura E questo era Franco Battiato Con la cura Alle 8 e 26 minuti Qui su Cristian Radio Good morning Milano Come sempre A vostra disposizione Il nostro Whatsapp 331-78-53555 Grazie a tutti quelli Che ci hanno scritto Come ad esempio Ad Alberto Anello Alberto Trappelli ci ha scritto Dicendoci che oggi È la sua prima giornata Si sta preparando Per la sua prima giornata In trasferta Della stagione Quindi insomma Deve muoversi Più degli altri giorni E come sempre Ci saluta Buona giornata A tutti gli ascoltatori Di Good morning Milano A Fabio E alla sua redazione Grazie mille Alberto Per il tuo Whatsapp Grazie ancora Prima ancora Fatima Adriana Anello Tutti quelli che ci hanno scritto Questa mattina Potete farlo ancora Se volete condividere con noi Il vostro disagio In questo momento Sui mezzi milanesi Perché sicuramente Come al solito Sarete lì stipati Questa è l'ora clou Questa qui è proprio l'ora Di quelle che dici Mamma mia Non se ne esce Però al momento Poi ieri abbiamo detto Al momento Tutto regolare Tutto a posto Parte la sigla finale Della trasmissione E cosa succede? Chiudono l'M3 Cioè in quell'istante L'hanno chiusa Quindi siamo riusciti a darvela Di andare a farvi un giro Sul sito di ATM Perché c'è tutto quanto Ben segnato lì Così capite bene Come vanno le situazioni Perché posso capire Che davvero Una fermata chiusa Una fermata spostata Una linea che salta Una corsa O è in ritardo Vi può far cambiare Completamente la giornata Perché poi arrivate in ritardo Perché poi Non potete passare a prendere Anche le piccolezze Non puoi passare Non hai il tempo Di passare Dal supermercato Sotto al lavoro A prendere la schicetta Ad esempio E quindi insomma È importante Sempre riuscire A dare l'occhio Alle situazioni In tempo reale Traffico Abbiamo luce verde Che abbiamo sentito Poco fa ATM Date un occhio Al sito ATM E noi cerchiamo appunto Di darvi dei consigli Su come muovervi Al meglio Nella città Adesso un po' di musica E poi torniamo sempre qua Per raccontarvi un po' A Milano La Rettore Con Splendo Splendente Alle 8 e 36 minuti Si continua La nostra mattinata Ancora per mezz'ora Qui su Crystal Radio Good Morning Milano Grazie ancora A tutti quelli Che ci stanno scrivendo Al 33178 53555 Torniamo un po' A leggere i giornali Perché da Corriere della Sera A Milano C'è un aggiornamento Sui casi di legionella Tra Corsico e Bucinasco Corriere della Sera In Schifo appunto Legionella Corsico e Bucinasco 56 contagi E 4 morti Il batterio è rimasto Nelle docce Delle case chiuse Per le vacanze In realtà il titolo È un po' forviante Nel senso che poi Andando a leggere L'articolo Questa cosa Delle docce Per le vacanze In realtà è solo Una possibilità Nel senso che in realtà Quasi tutti i contagi E soprattutto tutti i deceduti I 4 deceduti Sono pre-vacanza Sono in realtà Ricordiamo i primi casi Già a maggio Sono comparsi Nella zona di Corsico Per poi andare avanti Praticamente Fino ad oggi Sta rientrando L'allerta Ma entrambi i comuni Ma anche la regione Lombardia Anche l'assessorato Alla salute Di regione Lombardia Dice Teniamo ancora La guardia alta Quindi attenzione Quando utilizzate l'acqua Utilizzate almeno possibile L'acqua Del rubinetto Soprattutto Una cosa che molti Non si Così che mai Non ci pensavamo Anche Ovviamente Non la bevi Chiaro Ovviamente Non ci fai Da mangiare Anche se Meglio non farci Neanche da mangiare Anche se viene fatta bollire Dovresti farla bollire Veramente Tanto Ma il problema grosso Sono stati due momenti Della giornata In cui magari Oltretutto Uno sopra pensiero Non ci pensa I lavaggi dei denti Quindi Quel maledetto spazzolino Che passi sotto Il lavandino Sotto il rubinetto Per così Sciacquare un attimino Ecco Quel momento lì Dell'eterio E Le docce Il fare la docce È stato uno dei motivi Più grandi Dei contagi Appunto di Legionella Nella zona di Corsico E Bucinasco Al momento Ricordo ancora 56 I contagi Proprio Ufficiali Diciamo Oltretutto Contagi che non avvengono All'istante Noi sappiamo Di situazioni in cui Il contagio È avvenuto Qualche Cioè Il contagio avviene All'istante Ma poi i sintomi Si mostrano Qualche giorno dopo E ad esempio Quest'estate Ci sono stati più di una persona Che hanno riscontrato De vera Legionella Già ad esempio Nel luogo di villeggiatura E quindi da lì Poi sono restati al fatto Che era il focolaio Di Legionella Di Corsico E Bucinasco Questa è la situazione Appunto L'allerta alta Diciamo L'allarme Sta rientrando Ma ancora Si consiglia davvero Di Sanificare Tutto Anche interventi Sono stati pianificati Interventi di manutenzione Straordinaria Sui serbatoi Sulle autoclavi Insomma La sanificazione È fondamentale Importante Perché come vi dicevo Non è solo Nel bere l'acqua Che ovviamente Uno a quel punto Già dopo il mio contagio Ha smesso di fare Ma in altre azioni Quotidiane Che magari non ci viene Così tanto Cioè ci viene spontaneo Fare senza stare Da pensarci troppo Come ad esempio Appunto vi ripeto Lavare i denti O fare la doccia Quindi attenzione davvero Se siete nella zona di Bucinasco E Corsico In quel Lo chiamano cluster Della zona Acqua di Milano Insomma state all'occhio E un po' di Attenzione Andiamo con un po' di musica ancora E torniamo qui poi Con altre notizie Perché sempre Corsico ancora E altre notizie appunto qui Su Cristal Radio Good morning Milano Michael Jackson Black or white Continuiamo un po' A leggere i giornali Perché insomma Sono tante notizie Che arrivano Ieri oltretutto Anzi no Due giorni Diciamo di Incendi a Milano Importanti Incendi a Milano In via Trasimeno In una palazzina In 19 piani Tre persone intossicate Un centinaio Di sfollati E invece Poi a Corsico Un uomo è morto Carbonizzato In un ruolo Dopo intervento I vigi del fuoco Gli allarmi Sono scattati Poco prima Delle due Dell'altro ieri Diciamo Delle cinque e mezza Di ieri mattina Dove appunto Sono stati Segnati due incendi Il primo È un incendio scoppiato All'ottavo piano Di un palazzo Di 19 piani In via Trasimeno La periferia di Milano E ha causato Appunto Lo sgombero Dell'intero stabile In cui risiedevano Alcune centinaia Di persone L'allarme è scattato La mattina Appunto intorno Alle 5 e 30 Di ieri mattina Fiamme Sono sviluppate In un bilocale Dove si trovava Una ragazza E la giovane Ha fatto Alcune ustioni Piccole ustioni E sintomi Di esposizione Da fumo Nel frattempo Sono stati evacuati Gli altri piani L'intervento Tempestivo Di vigili del fuoco Che comunque Hanno messo Per qualche ora Appunto In sicurezza Tutto lo stabile E al momento Poi hanno fatto Rientrare Gli altri Abitanti Tranne quei Dei piano Appunto Interessato Dall'incendio E invece Molto più grave La situazione A Corsico Dove un altro incendio In un appartamento Al quinto piano Di una palazzina Di via di Vittorio 4 a Corsico E' stato invece Fatale per Un uomo Morto e carbonizzato Nella notte L'allarme E' stato Intorno alle 2 E sul posto Sono intervenuti Vigili del fuoco Che però Non hanno potuto Fare nient'altro Che spegne l'incendio E constatare Appunto Il decesso Del 58enne 33 In questo caso Invece Le persone Evacuate Di cui Alcune Sono state Poi ospitate Nel vicino comando Di polizia Locale In entrambi I casi Gli incendi Sono appunto Cioè Sono al vaglio Degli inquirenti In questo caso Appunto Sono sotto indagine Perché insomma Cerca di capire Di accertare Come mai Da cosa Siano nate Le fiamme E come siano Poi Siano propagate Non solo Nel luogo Interessato Dall'inizio Dell'incendio Ma poi Che appunto Nel caso Tutto l'appartamento In questo caso Poi ad esempio A Milano Tutto il condominio Perché poi Il problema grosso Di questi incendi È che L'Antonio delle scale Diventa Una grande canna fumaria Quindi Aspira proprio Il fumo Verso l'alto E quindi Diventa completamente Anche molto Molto difficile Uscire Dalle proprie abitazioni Prendere le scale Per andare giù E In più Il caldo Di questo fumo Rischia anche Di sciogliere Superlettili Controsoffitti E situazioni del genere Che poi diventano Anche pericolose Per chi deve Ovviamente Evacuare In fretta L'edificio Andiamo avanti Con la musica E poi Torniamo ancora qui Perché sono ancora Un po' di minuti insieme Fino alle nove Qui su Cristal Radio E questa è la nostra sigla Perché alle 8.55 di giovedì 19 settembre Volge al termine La puntata quotidiana Di Good Morning Milano L'odierna puntata Che ha visto Tante tante notizie Avete Spaziato davvero Da una parte all'altra Avete risposto Sono arrivati A 79 milioni Adesso Le risposte Ai sondaggi Che abbiamo fatto Quindi grazie mille A tutti quanti Per ascoltare Il morning show Più importante Più ascoltato Di tutto L'universo Ah dite che è pubblicità Ingannevole Che non va bene Non posso dire così Il miglior morning show Meglio di quegli altri Ah no Pubblicità comparativa Non si può fare così Se non hai i dati Va bene Allora niente Fate una bella cosa Domani mattina Dalle 7 alle 9 Vi consintonizzate Su Cristal Radio Poi sarete voi A dirci Com'è Good Morning Milano Sicuramente Credetemi sulla parola È bellissimo Quello che succederà Alle 9.05 Perché inizia Senti questa Eh sì La trasmissione Che vi racconta La musica nazionale E internazionale Con la bravissima Competentissima E preparatissima voce Di Ambrogio Curti Dietro il microfono Le voci che avete sentito Questa mattina Sono state quelle Di Tamara Malleo In collegamento con noi Fabio Ranfi Qui al microfono Beatrice In redazione Ginevra La regia Tutto questo Ogni mattina Dalle 7 alle 9 E Good Morning Milano Lo ritrovate anche su GoodMorning.milano.it Grazie a tutti Buona giornata E a presto Ciao 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 Grazie a tutti.